Uno spettacolo itinerante ed ora anche un libro, stiamo parlando di Poliziotta per amore, testo teatrale di Nando Dallachiesa che racconta come una ragazza qualsiasi scelga per amore della giustizia il mestiere della poliziotta. Ce ne parla Alessandra Livi. Ma che materia ne è? Almeno dovrebbe aiutare a stare tutti un po' meglio, ad essere liberi o quantomeno più sicuri. E chi la difende la legge? Se non la grande, astratta... Amore per la giustizia, per chi ha il coraggio di ribellarsi alle sopraffazioni della criminalità organizzata, amore per i deboli, per la legge dello Stato, è una ragazza piena di ideali che appena fatto il liceo è la protagonista di questo spettacolo commovente. Il primo testo teatrale di Nando Dallachiesa, che tra poco diventerà anche un libro, non poteva non toccare i temi della mafia. Dire cosa? Raccontare la storia di una ragazza in polizia a partire dal suo incontro con due figure femminili, come Emanuele Aloi, che venne uccisa con Saveri Antiochi, a madre di un altro agente di scorta, per spiegare che ci sono nuove che entrano dentro le forze dell'ordine, che una volta erano impensabili. Ci entrano non perché non trovano un lavoro, ma perché vogliono battersi per la democrazia. In Poliziotta per Amore c'è una sola interprete in scena, Beatrice Luzzi, che dopo le più varie esperienze in tv e al cinema, e dopo aver girato lei stessa un documentario sulla mafia, ora affronta il teatro civile, innamorata di questo personaggio, pieno di etica, passione, amore per la giustizia. Leggendo cosa ha capito in quegli anni? Che sono l'involta di portare in scena questa trama? Ma la vera difficoltà è il fatto che è un monologo, e quindi mi trovo da sola in scena, e di fronte a platee, delle volte molto partecipate, perché sono familiari di vittime di mafia, e quindi gente comunque che ha sofferto, quindi sono argomenti delicati. Noi ci saremo sempre. Noi ci saremo sempre.